Utilizzi questa cosa che Renzi ha fatto un'apertura, vuole discutere? Non c'è nessuna apertura, perché sappiamo benissimo tutti, io spero che i miei colleghi senatori stiano guardando e abbiano visto le dichiarazioni di Renzi, che vanno in direzione totalmente opposta rispetto a quello che sta succedendo in Commissione, cioè in Commissione su quattro articoli il Partito Democratico, o comunque i relatori, uno del PD e uno del nuovo centrodestra, hanno fatto quattro emendamenti che spazzano via tutto il dibattito, tutto il dibattito su quei quattro articoli, tutto il dibattito e tutti gli emendamenti, quindi non è un'apertura, è una chiusura, è lo stesso ragionamento che avevano fatto con le riforme costituzionali, cioè ti dicevano, ah noi siamo disponibili a parlare e poi non se ne parla, io sono d'accordo con Dattore quando dice che determinate cose sulla scuola devono essere cambiate, soprattutto questo discorso del Preside, perché un Preside, un diciamo è proprio i voleri, il 10% degli insegnanti in un mondo perfetto dove non c'è corruzione, dove non c'è la mafia, dove non c'è la politica che interviene, andrebbe benissimo, ma sappiamo che siamo in Italia e chi me lo dice che in Italia non arriva il picciotto di turno e gli dice che devi assumere Tizio Caio Sempronio o il politico di turno o la cooperativa di turno e gli dice al Preside, magari mettendogli una pistola in testa che deve assumere chi vogliono loro.